CDA Entità A Maestro Andrea attraverso Corrado Piancastelli si trasformerà in un fatto evolutivo. Allora bisogna fare attenzione a questo punto perché lo spirito può sapere tutto questo ma può anche saperlo in una maniera imprecisa e comunque non essere ancora molto interessato o motivato a saperlo. Egli è preso allora tra un'esperienza umanissima provvisoria a tutto quello che vogliamo che comunque si trasformerà in un fatto evolutivo dopo perché questo è comunque un piano di conoscenza altrimenti che ci verrebbe a fare sulla terra? Lo spirito può non essere ancora in grado di capire in maniera precisa che Egli non trae evoluzione direttamente dall'esperienza in sé stessa ma che la trae nel momento in cui essa diventa conoscenza. Di tutto questo lo spirito può non avere precisi confini nella sua evoluzione. Allora naturalmente in buona fede come conseguenza del suo stato evolutivo da una parte è attratto dalla terra e dall'altra è attratto ma ancora vagamente da un piano di conoscenza universale di cui non ha gli esatti contorni perché in base al suo piano evolutivo non ha ancora elementi sufficienti per una valutazione mentre invece è proiettato verso la valutazione del terreno perché questo è il momento della sua evoluzione il momento naturale del suo cammino. Per lui la terra ha un'importanza rilevante in proporzione ovviamente alla sua evoluzione ecco perché Egli stenta a lasciare il piano psichico a volte non tenta nemmeno di lasciarlo perché l'abbandono del piano psichico suona ancora come una seconda morte come una seconda perdita è vero che Egli via via acquista coscienza della sua interiorità del suo essere spirito ma questo riconoscimento è conseguenziale al suo processo evolutivo l'abbandono dello psichico è graduale e segue di pari passo la sua libertà di spirito il suo affrancamento dall'esperienza della materia è vero che